Aiaiai signora wizard mi è caduta sull'uccello proprio così con una citazione di tele mike boh chi lo sa una delle trasmissioni più viste della televisione italiana cominciamo questo video che è molto atteso dalla community e che è il momento forse dove tutti i commentatori e quindi content creator di magic devono stare sul pezzo devono assolutamente fare un video devono essere presenti con le loro opinioni per commentare quello che è avvenuto ieri 26 agosto 2024 con l'annuncio delle banned and restricted cards che Dan Musser e Dave Finsett ci hanno regalato sul sito ufficiale di Wizard of the Ghost quindi prima di cominciare a parlare di questa banlist importantissima una delle più vaste nella storia di magic quella che tocca più formati 1,2,3,4,5 formati se non sbaglio interessati alla banlist ma non quella poi con più carte toccate chiaramente andiamo a mettere andate a mettere un like sulla fiducia a questo video che insomma propone anche il mio ritorno dalle ferie di youtube e iscrivetevi al canale perché trovate sempre molti contenuti di magic che magari possono essere per voi interessanti se siete già iscritti beh potete accendere la campanella per non perdere neanche un contenuto allora io andrei subito al sodo e quindi comincerei a parlare chiaramente di questo annuncio e comincerei a insomma capire formato dopo formato che cosa è successo e che cosa ne penso più o meno dei vari appunto annunci cominciamo con Pioneer Pioneer sembrava un formato abbastanza interessante e vario soprattutto dopo l'ultimo ban quello di Karn per quanto riguarda Monogreen e nonostante sia un formato in cui ci sono alcune carte che sembrano assolutamente arrivare da altri formati che sono bannate in tutti gli altri formati cioè le carte con Delve mi riferisco a Treasure Cruise ovviamente e mi riferisco a Dig Through Time anche questa volta le carte con Delve non sono state bannate ecco qui infatti dopo l'annuncio di Dan Muser e Dave Finsett che ci annuncia perché se io clicco qua succede questo non si sa ci annuncia appunto che Amalia e Sorin sono stati bannati dal formato allora se andiamo a leggere le motivazioni del ban eccole qui ci viene detto che fondamentalmente dopo insomma un po' di mesi che stanno guardando i risultati del metagame e dopo che Seth Manfield ha vinto il Pro Tour con Rakdos Vamper a Fribbraio il mazzo è uscito proprio grazie alla creazione alla stampa di questa carta Van Ripper praticamente ha evoluto il Rakdos Midrange in un mazzo che non lascia chance a nessuno perché una volta che Van Ripper è sceso ci sono mazzi che proprio non possono affrontare non possono interagire il fatto che guadagni vite ogni volta che perdi le creature non solo faccia perdere vite è una cosa gigatronica perché permette a Rakdos Midrange che era sempre molto molto insomma gli aggro non è e soprattutto Convoke non è che li gestiva molto bene però appunto dopo che scendeva in Ripper attaccami cioè fai qualcosa vediamo che cosa succede e diciamo che era diventato evidente che questo mazzo fosse un po' troppo potente nel meta qui ci dicono che addirittura ha più del 30% in tutta la season RCQ che c'è stata di Pioneer nonostante il formato comunque io l'ho giocato e sembrava interessante perché c'erano ancora delle possibilità di esplorazione però molti mazzi erano stati davvero insomma spinti via ma magari non tanto da Vampiri quanto appunto da Amalia diciamo che io in queste motivazioni appunto ci leggo un po' di sicuramente diciamo hanno fatto sicuramente un po' di studio e studio intelligente devo dire la verità perché mi sembra che effettivamente siano i due mazzi che un po' tengono tutte le altre carte del formato un po' lontane e quindi è stato deciso di bannare il signor Soarin Imperious Bloodlord questo ripeto per far sì che non sia possibile la giocata incredibile che il mazzo Ractos Bumper aveva cioè terzo turno Soarin Into Man Ripper perché puoi subito fare la pilota 3 e praticamente avere un vantaggio che da lì non puoi essere schiodato e poi è stata appunto bannata Amalia Amalia è una carta recente una carta che aveva riportato tra l'altro l'abilità Explore diciamo in voga ed è una carta che dava vita a una combo insieme a Wild Groth Walker che permetteva di arrivare fondamentalmente a tantissime vite e ad avere sul tavolo una 20-20 o insomma di più pronta per il prossimo turno per uccidere l'avversario ma più che altro era un mazzo che nonostante nelle motivazioni si dica che Wizard ha un debole un po' per i creature combo e questo un po' si spiega anche cosa è successo in Modern con Nadu e che sono dei mazzi che sono sani per i formati perché effettivamente sono delle combo che poi si rompono con una singola removal il problema di Amalia era un problema relativo a come comunque la carta è scritta perché come potete vedere qui dice distruggi tutte le altre creature se la forza di Amalia è esattamente 20 ci sono dei modi per farla passare da 19 a 21 installare la partita e renderla fatta questo si è visto purtroppo in tantissimi streaming non tanto del Pro Tour perché lì non ci sono state queste occasioni ma dopo nei vari legacy events dei Pioneer ci sono state partite che sono finite patte anche 3 4 volte tra due giocatori di Amalia o comunque tra due giocatori e che dovevano essere ripetute perché qualcuno ti dà più 3 più 1 ad Amalia quando è 19 la fa passare da 19 a 22 e quindi da lì in poi appunto la combo non si ferma più allora diciamoci la verità questa carta Amalia è scritta un po' male questo diciamo questa interazione con un singolo effetto di pump spell come si dice doveva essere un po' prevista da Wizard of the Coast che però insomma mi sembra che effettivamente poi io sono sempre stato uno che difende Wizard dicendo ragazzi le carte le scrivono due anni prima che entrano nei formati come fanno a capire come sono i formati come fanno a capire quanto un'interazione tra story in un nuovo vampiro possa effettivamente influire su un intero meta se non possono giocare e testare il meta però effettivamente potrebbero testare le carte e questa carta io ripeto ho sempre pensato che le carte venissero testate molto bene magari invece non è stata testata non è stata testata adeguatamente non è stata testata fino in fondo e adesso chiaramente subisce il Banhammer per quanto riguarda le motivazioni che comunque vi ho esposto più che altro per quanto riguarda il formato è curioso e interessante sapere che ci sono altre carte che hanno considerato qui parla di Treasure Cruise e favola del Mirror Breaker che è tra l'altro la carta con cui insomma vi ho aperto la discussione su Pioneer perché è proprio la carta rappresentativa secondo me del formato e hanno deciso di lasciarle all'interno del formato le carte con Delve sembrano non avere problemi in un formato senza fetch e senza troppi country pa1 e soprattutto basta un rest in peace ed è da quando il formato è nato che sono lì e nessuno ancora pare si sia troppo lamentato vedremo se Fenice adesso conquisterà di nuovo il numero uno del meta in maniera indiscussa ricordiamo che è un mazzo molto difficile da giocare e quindi direi che io sono abbastanza convinto che questi ban fossero giusti fossero quelli da fare e fossero quelli che comunque mi rendono contento di rigiocare il formato e di rimettermi magari quando ci sarà la stagione RCQ a lavorare sul formato perché mi sembra effettivamente molto molto interessante come ban allora passiamo a Modern passiamo a Lucello passiamo a Nadu beh dovremmo farlo sì dovremmo farlo però io appunto ho preparato pure delle copertine fatemele schiacciare fatemele vedere prima di appunto andare a parlare delle singole carte Modern è il formato dell'ultimo Pro Tour il Pro Tour Hamster a Modern Horizon 3 è un formato che ci ha fatto veramente vomitare al Pro Tour possiamo dirlo è un formato che è stato totalmente rovinato da una carta appunto Nadu un formato che successivamente ha visto nei suoi eventi online comunque un non dominio del mazzonato ma comunque un veramente assoluto predominanza invece negli eventi offline un formato a cui tutti almeno personalmente io credo di poter parlare un po' per tutti siamo molto legati qui in Italia un formato che effettivamente ha numerosi problemi numerosi problemi e che devono essere in qualche modo risolti andiamo a leggere come abbiamo fatto prima le motivazioni dell'annuncio allora sappiate che per un per Nadu c'è addirittura un articolo completo scritto eccolo qui tra l'altro anche in italiano dove praticamente viene ammesso che Nadu non è stato innanzitutto pensato per il Modern e soprattutto è stato un errore di progettazione cioè nessuno aveva pensato a Nadu con Sciuco o Nadu con Apripista Encore e quindi nessuno aveva pensato al fatto che questa carta potesse essere così disastrosa qual è il problema di Nadu? il problema di Nadu è che è una carta appunto che è scritta male ma questo essere scritto male poteva essere effettivamente un minimo visto prima con un po' di test ecco ripeto Wizard of the Coast ci dice che non è stata testata abbastanza ma soprattutto Wizard of the Coast ci dice in quell'articolo che è stata progettata per Commander come qualcun altro beh ci dicono tra l'altro da Twitter che entrambe le carte Hogak e Nadu due delle carte che hanno rovinato totalmente il Modern per un certo periodo di tempo sono state legali per esattamente 73 giorni anche questa era una carta ripeto che è stata progettata per Commander che non aveva avuto forse abbastanza test nel caso di Nadu ammettono l'errore nel caso di Nadu si parla proprio apertamente in una carta disegnata male non ci sono molti complottisti del Magic che avevano detto ah ma adesso bannano Sciugo perché ce la vogliono ancora vendere questa carta perché no vediamo che cosa succede di qua e di là la verità è che è stato bannato Nadu direttamente la carta è problematica a me fa ridere che sia un'altra volta una carta blu verde in colore a subire il Banhammer cioè poi le stampano tutte con lo stessa non lo so costo di male in testa per farle forti boh vabbè è una cosa abbastanza io credo che ecco questa volta Wizard of the Coast sia assolutamente indifendibile perché ha rovinato un Pro Tour per non aver testato questa carta e ha rovinato oltre a un Pro Tour chiaramente due mesi di RCQ e di Competitive Magic su Magic Online voglio dire una cosa aspettate la fine del video per vedere effettivamente diciamo cosa ne penso sui formati competitivi di Magic e sul fatto che certe carte effettivamente non siano proprio granché divertenti questa non era una carta divertente sapete chi è un'altra carta che non era per niente divertente assolutamente Griff afflizione altra carta che viene bannata chiaramente dal formato modern per quanto riguarda le motivazioni di Griff qui fondamentalmente si parla solo ed esclusivamente di divertimento poi quando si va a vedere effettivamente questo divertimento all'interno del formato diciamo che non segue poi il divertimento e risultati competitivi Griff viene bannata oggi come oggi è il momento in cui è diciamo meno potente in in modern è meno potente e meno giocata questo perché insomma se andiamo a vedere proprio Goldfish nell'ultimo mese di modern diciamo che i mazzi che giocano che si possono permettere di giocare Griff non sono poi al top del meta ecco qui la fotografia degli ultimi 30 giorni niente Griff 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 Griff si niente Griff niente Griff si Griff si e forse Griff qui insomma perché quindi viene bannata Griff in questo momento e perché non è stata bannata prima ma è chiaramente perché Wizard sbaglia e sbaglia anche in questo modo tutti sanno che Fury è stata bannata per le colpe di Griff e Griff il problema la carta meno risposta tra le 5 incarnation è proprio Griff perché è più una minaccia che di levarti una capra perché non risponde a una cosa che è sul bordo come solito come Fury o una cosa che impila come Saptly o una cosa che è nel cimitero come Endurance risponde a una cosa che è in mano che ancora non è stata lanciata e quindi grazie chiaramente agli scammini rende la partita di Magic veramente miserabile perché l'esperienza di fare Griff e levarti le tue due carte migliori o di subire appunto questa cosa magari dopo aver fatto un Mulligan è veramente veramente terribile e che dire io su questo sono d'accordo sono d'accordissimo sul bandy Griff doveva essere fatto prima probabilmente sì ci mancherebbe però è anche vero insomma che è una carta che in qualche modo ha reso molto molto riconoscibile il formato modern quindi le motivazioni ripeto da parte di Wizard sono tutte relative al divertimento insomma concludendo il discorso su Griff il fatto che venga bannato adesso chiaramente ha poco senso quindi altro errore da parte di Wizard però è un diciamo probabile una probabile mossa pro futuro perché l'idea è che i formati devono essere divertenti e nessuno si diverte a fare Griff di primo o non Griff di primo cioè o subire Griff di primo una cosa che voglio dire da questo punto di vista è nessuno mi leverà mai dalla testa il fatto che sia Fury che Griff siano state bannate in modern per colpa delle carte che scammano carte di merda carte che si usano in limited carte che non servono carte che continuavano ad essere stampate tipo not dead after all mentre succedeva questa cosa qui nel formato e che se lo so era impossibile ma se fossero state bannate tutte tutte cioè non fosse possibile effimere fare Griff di primo scammata sia Griff che Fury che tutte le incarnation sarebbero state carte ben bilanciate o comunque carte non problematiche un peccato che sia finito così perché secondo me sono carte davvero appunto interessanti qua in generale allora che cosa succede in Legacy beh questo è facile appunto perché quello che è successo in Legacy è abbastanza clamoroso è stata bannata una carta le carte in Legacy non vengono quasi mai bannate a meno che non rompono il gioco il formato è un formato che riesce a equilibrarsi da solo perché essendo un formato del presente Force of Will che vi ho voluto far vedere difficilmente poi ci sono delle strategie che vincono on the spot perché devono stare tutti attenti a Force of Will a Day a Counter a zero e cose del genere e soprattutto ci sono carte talmente tanto potenti che figura di se Griff ti può dare fastidio la verità è che il dominio dei vari mazzi a base Griff a base nera all'interno del formato è sotto gli occhi di tutti chiaramente qui si parla non tanto di Malagher Rebirth Evimerate e roba del genere ma di Animate Dead e Reanimate che comunque sono carte molto più forti cioè fare Griff di primo non ha poi questo diciamo svantaggio perché quello che volevo dire è che fare Griff di primo in Modern ha bisogno di appunto Malagher e Rebirth in mano in Legacy no potete fare Griff con una carta guardare la mano levare la migliore carta come un Tossiz 2x1 tra virgolette e poi pescate Animate Dead o Reanimate la rifate successivamente perché quella è comunque al cimitero è chiaramente un'interazione probabilmente troppo potente e come ci viene descritto all'interno delle motivazioni Legacy non è stato in grado di correggersi per ristabilire cioè per cercare di venire incontro a questa giocata e al power level di questa giocata in Legacy chiaramente ci sono altre carte che loro stanno guardando come Psychic Frog e vedremo come Legacy si alimenterà da qui in poi perché comunque è davvero interessante quello che secondo me sta per succederà o sta per succedere allora andiamo a parlare dell'ultimo formato che è stato toccato insieme a Explorer e in Explorer ci sono stati gli stessi ban di Pioneer questo non li vado neanche a commentare in fondo Explorer è un Pioneer depotenziato a cui mancano ancora delle carte è un formato su Arena che chiaramente era invaso dai Mazzi Amalia perché no e anche Vampires e che chiaramente adesso verrà sicuramente riequilibrato parliamo invece di Vintage il formato di Black Lotus qui non ho fatto tutto schermo ma vabbè lo faccio adesso il formato più potente di tutti il formato in cui i ban praticamente non esistono se non preventivi il formato in cui comunque è necessario ogni tanto restringere le carte allora mi fa assolutamente volare il fatto che Vexing Bubble verrà ristretta in Vintage perché sembrava la carta proprio fatta apposta per giocare contro le Spella Zero che erano in Vintage come Black Lotus Mox e tutto quello che c'è a Zero e quindi da adesso in poi non lo faremo più è invece clamoroso clamoroso il fatto che Urza Saga verrà ristretta allora un attimo un approfondimento su questa Urza Saga questa è la carta che da quando è uscita ormai tre anni fa quasi quattro tre anni 2021 quasi quattro faranno quattro anni con Modern Horizon 2 tutti hanno detto che era una carta troppo potente che andava bannata eccetera una carta che non ha subito il Bananmer da nessuna parte e che è durata in Vintage tutto questo tempo e che adesso viene ristretta ovviamente un po' forse è colpa di Vexing Bubble ma tutte e due le carte vengono ristrette quindi non so se è colpa di Vexing Bubble probabilmente è una carta che effettivamente in Vintage è davvero troppo potente e porta le partite ad essere diciamo non divertenti e non anche perché qui si parla soprattutto di un formato divertente non di un formato competitivo e quindi le motivazioni ci portano proprio a insomma a parte che viene detto che l'ultimo ban è stato l'Urrus perché nel 2021 è successa questa cosa qui e appunto ci viene detto nelle motivazioni che fondamentalmente è troppo Urzasaka era veramente troppo per il formato perché ti cercava comunque determinati pezzi che poi andavano effettivamente a influire troppo sulla partita mentre ti costruiva dei costrutti che ti facevano vincere quindi una sola Urzasaka da adesso in poi le altri formati comunque vengono analizzati timeless sta bene brawl è figo historic stiamo guardando un po' di cose explorer appunto come pioneer non succede niente ad alchemy molto interessante leggersi questo paragrafo sullo standard dove viene detto che standard è in uno stato davvero molto buono e che insomma sono contenti di quello che è stato fatto volevo concludere questo video andando a vedere un po' di reazioni e poi parlando di un argomento che mi sta molto 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 a cuore e cioè ma che cos'è un formato competitivo perché io qui ho letto da parte di wizard un po' di cose che fanno a cazzotti una con l'altro ok e quindi voglio andare a dirvi due cose proprio due prima di chiudere questo video che spero chiaramente vi sia piaciuto allora reazioni intanto Nikashu ci dice ok sono veramente sorpreso che l'anello non sia stato bannato perché questa è la situazione dell'anello nei vari deck cioè qui si gioca 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 qualcuno sotto gli fa notare guarda che alcuni mazzi qui sono divisi tipo Eldatron Trotru Debrich come vi pare ragazzi però questa è la situazione dell'anello in Modern è una carta ubiqua che è in tantissimi mazzi e quello che ci viene detto da Wizard of the Ghost è che non è stata bannata ma che la stanno guardando perché eccola qui è presente in molti deck ma non c'è un singolo deck che terrorizza il Modern con la presenza dell'anello quindi stiamo dicendo che va bene avere diciamo la stessa carta molto molto forte fortissima ubiqua in Modern in praticamente tutti i mazzi e che tutti devono comprarsi questa carta che ormai costa pure un sacco di soldi e questa chiaramente dà via pure un sacco di complottismo bla 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 ma ci fanno spendere i soldi per un set che ormai ha un anno quello del signore Lianelli tra l'altro hanno detto che possono ristamparla non gli interessa finirà il contratto con il signore Lianelli non potranno chiamarla The War Ring ma possono ristamparla non gliene frega un cazzo quindi questo sappiate che se dovesse rimanere in Modern poi si abbasserà di prezzo quando ci sarà la sua prima ristampa come carta di Magic normale e detto questo non sono appunto ci sono molti che sono davvero scontenti della situazione una è Andrea Mangucci che saluto che pensa che la banlist è veramente tra le banlist più brutte della storia e anche qui si lamenta sul fatto che tutti dovranno comprare The War Ring per vincere ragazzi The War Ring è anche presente in Boros Energy con mazzo aggro stiamo parlando di una carta veramente che non ha senso di esistere a livello di power level secondo me dall'altra parte c'è anche chi è contento come Saffron che dice comunque senti io è strano che il One Ring ogni volta schiva questi ban però a parte questo mi sembrano dei ban giusti ok ma sono dei ban giusti sono dei ban giusti per cosa per rendere un formato competitivo migliore che cos'è un formato competitivo e quando un formato competitivo è migliore nelle motivazioni Wizard of the Ghost nelle motivazioni di questo ban beh che cosa ha detto ha detto spesso ha parlato di diversità e quindi del fatto che questi ban siano fatti perché non c'è abbastanza diversità quindi siamo sicuri che all'interno di un formato competitivo la diversità sia importante che è una cosa che tra l'altro a me sta molto a cuore e ogni volta ne parlo e siamo d'accordo su questo tiriamo una linea il formato è bello quando è diverso quando ci sono tanti mazzi che possono competere per la vittoria di un singolo evento di un pro tour di una stagione di un rcq poi un formato competitivo è bello secondo me chiaramente questo non l'ha detto Wizard of the Ghost quando è skill intensive quando ci vuole skill e non solo fortuna per giocarlo quindi quando non è solo un io faccio una tua prima di te banalmente ma poi un formato competitivo è bello quando è divertente nella motivazione dei bann infatti viene detto che griff fatta di primo non è bello da subire porta a una partita che appunto abbiamo detto miserabile non è quasi neanche bello da fare ci sono molti che te lo dicono non è bello scammare griff di primo all'avversario non è bello levargli le sue due migliori carte e poi ritrovarsi con un 4-3 che attacca con menas non è bello semplicemente non è bello ora cosa significa questa cioè non è bello perché non è appunto divertente scusate non dovevo dire bello ma non è divertente ma chi l'ha detto che quello non è divertente e invece fare The One Ring pescare 1-2-3 con due attivazioni fare un altro The One Ring e essere di nuovo invincibile e di farlo magari dopo due turni è divertente chi l'ha deciso ma soprattutto chi decide che il divertimento deve far parte di un formato competitivo sì no forse questa è una questione secondo me non di lana caprina ma una questione importantissima su cui Wizard of the Coast e tutti i giocatori dovrebbero interrogarsi io quando vado a un RCQ per qualificarmi al prossimo evento mi voglio divertire io io c'è chi invece vuole solo competere la competizione spesso non è divertimento ma è diciamo forma mentis quanto riesci a rimanere concentrato quanto tu appunto hai studiato il formato e quanto quindi ne sai e non vuoi arrivare in una sala e perdere contro un mazzo a caso come ci sono i moders portati da uno che non lo so non ha capito cioè non ha capito non vuole giocare non neanche degli anti meta dagli off meta perché gli piace perché perché gli sembra di stare in commander cioè l'idea è ma un formato competitivo deve somigliare a commander dove tutti possono giocare a quello che gli pare le carte a caso e tu muori da carte a caso anche se sei un giocatore super che ha veramente molto forte che ha fatto mille produre che ha studiato il formato fino alla fine oppure appunto è un formato dove bisogna semplicemente divertirsi questa è una domanda super aperta ragazzi ed è una domanda che ognuno appunto dovrebbe trovare la propria risposta e spero di trovarne tante nei commenti ma che cozza davvero tanto con quello che c'è scritto perché qui ripeto c'è scritto che non è divertente fare griff ma ripeto chi l'ha deciso chi l'ha deciso cioè o mi parli di diversità e allora è una cosa oggettiva su cui tutti ragioniamo o mi parli di divertimento che è una cosa super soggettiva c'è gente che si diverte a giocare ruby storm c'è gente che odia perdere contro ruby storm cioè questo è una cosa soggettiva che deve assolutamente uscire fuori da questo tipo di formati e quindi il mio ragionamento diciamo successivo è ma modern è un formato che deve rimanere all'interno del della stagione rcq e dei pro tour è un formato che si può permettere questo o un formato un po' a caso la gente vuole divertirsi giocare quello che gli pare banalmente quindi lasciateli liberi di fare gli eventi come è successo per il legacy no in cui adesso ci sono praticamente solo degli eventi diciamo per due organizzati dalla community e non degli eventi di wizard no oppure appunto modern deve continuare a essere un formato competitivo e divertente a questa e a tutte le altre domande del video vi aspetto mi aspetto tante risposte nei commenti su cui discutere e appunto divertirci ciao e grazie per aver guardato